Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nell'Andralink e benvenuti in questo nuovo video di Bakugan, campione di Vestroia Ragazzi, siamo davvero vicini alla conclusione del gioco Oggi si affronta il CEO della Parasol Dobbiamo insomma fargli il sederino a stelle strisce Quindi andiamo in centro senza indugiare troppo E prendiamo a calci sui denti Quel maledetto della Parasol Ragazzi, eccolo qua L'ultimo livello A dire il vero credo di poter potenziare ancora un po' i miei Bakugan Facendo di combattere contro tutti gli NPC che sono rimasti Ma, beh, insomma Ah, attenzione però, attenzione Chiedi in giro e scopri dove si trova il quartier generale della Parasol Quindi ora mi tocca affrontare tutti Oh ma c'è un'edicola, vendi carte Pokémon? In questo mondo mi sa che non esistono i Pokémon Esistono i Bakugan però Darkus Cycloid Maximus, già? Cioè ragazzi, partiamo col botto proprio Io veramente vorrei girare un po' Per vedere se c'è qualche Bakugan interessante da prendere O tipo questi nastri che già ne ho visti due per terra Sicuramente fanno parte di una missione secondaria Continuiamo a cercare la Parasol Lui non parla Bravo Comunque sia, cominciamo Vediamo insomma di parlare con un po' di persone Eccolo qua, questo è Killua di Hunter Hunter Mio padre è un broker e non ne posso più di aspettarlo Vuoi combattere? No Cioè se posso evitare, evito Sai? Avrei giurato di aver visto quattro tartarughe giganti passare di qua un secondo fa Oh mio Dio, vende la pizza poi lui Vende la pizza Oh tu ce l'hai le carte Pokémon? No eh, va bene Nessuno ha le carte Pokémon Tu che sei? Vuoi sapere dov'è quartier generale? Prima combatti con me E va bene, combattiamo Uffa Uffa Potrei anche sconfiggerli molto facilmente usando gli attacchi di squadra Ed è quello che voglio fare ragazzi È quello che voglio proprio fare Però un attimino di apprezzamento per il mio Barbetra Maximus Che insomma è bello Tra l'altro anche lei ha dei Bakugan Maximus I Darkus poi sono quelli che hanno più salute raga Sono pericolosissimi Però ai miei Bakugan ho assegnato nuove mosse Quindi bene o male Possono resistere qualche turno e fare danni Ecco lui è ritardato in questo momento, poverino Però vabbè se mi manda in ritardo io non è che posso fare molto E loro attaccano di prepotenza raga Sono davvero davvero cattivi Urlo di Darkus Se avessi il sacrificio attivo mi faceva tipo mille danni Ma non me l'ha fatti Però non capisco perché a Dragonoid servono sempre due tacche per caricarsi Due core Perché alcuni basta un core di quelli più potenti e si caricano subito Invece lui no Tra l'altro ho messo dallo scorso video se l'avete visto Axillator Maximus Che è una figata pazzesca sto Bakugan Anche lui vuole due tacche Va bene va bene Però se trovo Darkus Dragonoid Levo Dragonoid di fuoco e metto lui Perché è tre... Cioè il Darkus ragazzi è... Wow! Il tipo più figo che ci sta Tra l'altro Tra l'altro stavo pensando Ma Preston che fine ha fatto? Cioè Preston è arrivato no? Ha detto io faccio il bello e il cattivo tempo Lo andiamo ad affrontare a casa sua Non c'è E poi è scomparso Non capisco perché Cioè non si fa più vedere in giro Boh La cosa brutta di alcuni Bakugan è che hanno pochissima salute E se l'avversario fa un attacco forte ci rimane Comunque sia un altro attacco di squadra raga E via Anche lui se ne va Cosa? Non è bastato Ragazzi l'attacco di squadra non è bastato Quindi loro fanno 3000 danni a diritto proprio Ma non bastano per sconfiggere l'avversario Nooo Grande Gli attacchi di squadra non bastano Ragazzi ma di che stiamo parlando? Boia Il gioco rivela un nuovo aspetto di sé Non me l'aspettavo Uhuhuh Ci sarà da divertirsi Ci sarà da divertirsi E allora noi intanto attacchiamo Bene bene Mi piace questo aspetto Mi piace Bene Ci voleva un attimino di guizzo frizzo Che dice Eh fai l'attacco di squadra Eh ma non ti andrà sempre bene caro Non ti avvicinare Quella vedete mi fa crescere l'erba sotto i piedi O qualsiasi cosa sia E mi fa rallentare Ma poi no Lei mi ha visto si è fermata Dice Mo' gli faccio lo scherzone Mi passa a fianco E non lo so io Va bene così secondo voi? Mo' chiedo ai dirigenti chiedo se va bene Ad ogni modo questa qui finalmente se ne va E ce l'abbiamo fatta E ce ne mancano altri tre da sconfiggere Wow non finiremo più Tra l'altro abbiamo altri quattro combattenti da affrontare Non tre Sono cinque in totale Sì so dov'è la parasol Perché ve lo vuoi sapere? Ti dirò quello che so se riuscirei a battermi Va bene amichetto Fritz Combattiamo Chester L'anima di Chester Oh mio dio Maximus Dragonoid Oh Darkus poi Perché mi odi gioco? Perché mi odi? No questo c'è il potere C'è il potere Ho paura di quello Non ti avvicinare In gigantimento Oh mio dio È enorme Oh mio dio Godzilla Bene anche il secondo combattente se ne va con un altro attacco di squadra Ragazzi altri tre ancora Prima erano tre Prima ho detto tre ma in realtà erano quattro Va bene non fa nulla Tutta la squadra Maximus Il problema è che non tutti hanno un sacco di punti salute come Barbetra L'edificio è molto strano Vorrei poterci andare a giocare Sì ma dimmi dove? Megapugno è una tecnica Ma è anche in Pokémon Come funziona? Gioco X-Brain Tu chi sei? Perché mi trovo in questo vicolo? Non chiedere combattiamo Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Sei importante? No Allora non scocciare Oh l'edificio della Parasol Penso sia da qualche parte a sud di qui Ha un aspetto strano Molti degli uomini d'affari che lavorano lì vengono a comprare da me Ma cosa che sei un bambino? Cosa vendi? Ah ok questo non era un combattimento Bene Ci siamo risolti un piccolo impiccio allora Senza combattere Bravo bambino Bravo Vabbè è un bambino Ma poi cosa vende che è un bambino? La signora sa qualcosa? Oh i tuoi genitori lavorano lì? Si trova a destra di qui Ok grazie E l'ultimo che è qua? Tra l'altro ho visto uno che era dentro una specie di parco sotterraneo non so E lui è l'ultimo La Parasol? Mi hanno licenziato l'anno scorso sono dei buoni a nulla Torna dei tuoi amici e parla di ciò che avete scoperto Ah questo qui ha i ticket e li ha persi tutti Quindi io ora devo trovarli 20 ticket per le azioni Beh allora scusami Se io li trovo e poi me li ritengo Quelli fruttuano Giusto? Una volta sconfitti e aver parlato con tutti quanti Beh non ci resta che continuare Qualcuno ha una pista? Penso che si tratti di quell'edificio strano a sud ovest Ma non sembra esserci modo di entrare Sì ha senso Ne riuscivo a capire che posto fosse all'inizio Mi mette i brividi Qualche idea su come entrare? Io ho trovato il modo di entrare nella centrale Ma è stata pura fortuna Ho visto un portalettere laggiù Di sicuro consegnerà dei pacchi anche là Il portalettere? È giorno peggior della mia vita Non posso credere che sia successo a me Il mio capo mi ucciderà Mi scusi signore salve Mi chiedevo se lei conoscesse un modo per entrare nel quartiere generale della parasol Cosa? Chi sei? Perché me lo chiedi? Senti ho perso tantissimi pacchi Non avrò tempo di rispondere alle tue sciocche domande finché non li ritroverò tutti Trovo i cinque pacchi mancanti per qualcosa? Ma no Ma come trovo i cinque pacchi mancanti? Ma dove sono? Ah ma ecco lì Ma perché? Come? Mi spieghi come? Come ci è arrivato? Eccolo qua Tu fai la guardia a pacco? Ho trovato questo pacco ma non ho intenzione di dartelo Ah ma tu guarda che roba Ma io non lo so la gente Ma è scema la gente Se non altro non l'ha rubato Ha trovato Cioè ha già anche ragione Perché il postino che l'ha consegnato è un tonto Consegnato che l'ha perso Insomma è stata un pochino più dura sta lotta Eh devo ammetterlo Questa mi ha fatto Un bel po' di dottini Mi faceva contro il Bakugan Ogni turno Ogni secondo Allora sto pacco me lo dai Oh tutti Nice Nice E salgono anche di salute Con una sola tacca Buono No ok va bene Prendi il pacco Scommetto che dentro non c'è nulla di interessante Vai brava Corri a casa dalla mamma Ma che cos'è scivolo Ma per favore Ma è andato via anche il portalettere Adesso che facciamo Penso che possiamo semplicemente entrare Super facile Ah ciao Il figlio del capo ti conosce Se qui per l'appuntamento vero Sì sono io Preston è mio amico Ah ma allora Preston Il padre lavora lì Ok Allora dimmi qual è il suo Bakugan preferito Sai che questa è la password Vero Oh sì ma ho dimenticato Carta e penna per gli appunti Torno subito Scopri qual è il Bakugan preferito Di Preston a Elena Heights Cosa Ma Ma scusami Ma davvero Io inizio a dubitare Che la mia sanità mentale Possa uscirne intatta Dopo questo Questo Il Bakugan preferito di Preston Tutti sanno che è un Darkus Ti farò vedere perché No Ah ma devo combatterci proprio Ok No Ha un Darkus Dragon Ma io ti odio Ti odio con tutto il cuore Perché hai un Darkus Dragon Ma perché mi fate questo Va bene che a me Piacciono i Pokémon di fuoco Ma con i Bakugan è un altro discorso Dai Ah ma è lei E questa signorina qui Adoro Pegatrix Mio cugino Preston Mi ha dato uno Ha detto che è suo preferito Ah E devo combatterci Va bene E anche lei ha un Dragonoid Darkus L'unico scemo che non c'era Sono io E anche lei Se ne va a quel paese Ragazzi Pegatrix No Ma se mi hanno detto Uuuuh Raffica di Spade Maximus Oh yeah Qual è il mio Bakugan preferito? In questo momento è Dragonoid Ma Maximus Ma È Dragonoid Ma Darkus Ma Insomma È un po' Un po' complicato Nel caso fosse solo Dragonoid La scelta Mi ricordo che potevo scegliere Quale attributo Quindi magari Ricomincio il gioco E lo faccio da Darkus No No Non ci tengo Per ricominciare un'altra volta il gioco Sì è bello provare Bakugan diversi Ma ci sono ancora tantissime speed da fare Quindi a voi ancora giocare A questo punto Io direi di parlare col Cosola della Parasol E di entrare E poi finire l'episodio raga Sono successe tante cose In questo episodio Tutte belle Tutte quante avvincenti E prorompenti E super accattivanti Darkus Pegatrix Lui ma chi sei? In realtà è corretto Ok allora conosci davvero Preston Preston e signor Richard Paras Sono arrivati giusto poco fa Ti stanno aspettando a piano di sopra E allora spostati Mi da Darkus Pegatrix Dannazione Cerca l'ufficio di Richard Parasol Sì i Parasol Sì o della Parasol Ah ma ci sono un po' di cose qui da trovare anche Vediamo un po' Soldi Che bello Va bene raga Allora termino qui l'episodio Nel prossimo Andremo a spodestare Preston E probabilmente anche il padre Quindi Probabilmente anche il padre Lavora con i Bakugan Quindi insomma Ci sarà un po' da divertirsi Ragazzi Io come sempre vi ringrazio per aver seguito l'episodio Shoutout alla YouTube Start Game Che ha l'abbonamento Star Inoltre Se ancora non siete iscritti al canale Magari iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye bye Ciao Ciao Grazie a tutti.